Ciao a tutti, bentornati se qualcuno vuole essere Cliff, io sono Cliff, oggi nuova monografia avevamo cominciato ad aprile con le monografie, speravo di farne un po' di più ma così vanno le cose comunque se ne volete la monografia era quella su Alex Garland, quando è uscito Civil War mamma è andata a recuperare quel film, in generale è recuperato di Alex Garland ma oggi non parliamo di Alex Garland, oggi parliamo di un regista iraniano danese che è uscito di recente al cinema con il suo nuovissimo film The Apprentice ma ne parleremo dopo, il regista di questione ovviamente è, aspetta un attimo Ali Abasi, Ali Abasi comunque è nato nel 1981, 40 anni circa che appunto dopo aver studiato per diventare architetto a Teheran decide di spostarsi e andare a studiare in Svezia per comunque conseguire vari master, lauree eccetera in che poi verso il 2007, se non vado errato, decide di andare in Danimarca per appunto diventare regista comunque per poter contribuire una laurea in cinema infatti lui sordisce se non sbaglio verso il 2006, anzi no 2011 ma il genere con il suo primo cortometraggio dobbiamo aspettare un bel po' di tempo ma neanche troppo per il suo primo lungometraggio il suo primo lungometraggio è per un attimo, oh si che bello funziona, appunto Shelly Shelly parla di questa ragazza, non mi ricordo il nome, mi spiace prima di questi primi tre film che hanno tutti i nomi o nordici o iraniani, comunque Medio Oriente quindi mi spiace ma ho anche i miei limiti comunque parla di questa ragazza che è diventata madre abbastanza giovane che per riuscire a poter regolare al figlio, potersi comprare un appartamento deve svolgere vari lavori tra cui quello che comunque sarà il tema fondente del film ovvero deve occuparsi di questa signora molto grande, circa sulla cinquantina che è sposata ma appunto per un po' per i figli, una famiglia, queste due persone che hanno deciso di esternearsi totalmente dall'elettricità, quello che riguarda l'elettronica quello che riguarda il mondo esterno, in cui si sono costruiti una specie di piccolo mondo un microcosmo in cui appunto gestiscono i loro animali, hanno il loro orto e così via e appunto questa ragazza è costretta a dover far parte di questo ambiente a doversi dissociare un po' dal suo telefono prima di tutto e così via dalla televisione, dal computer e così via appunto questo Shelly esordio alla regia per Abbasi, tra l'altro scritto sempre di Abbasi posso dirvi che è un'architettura interessantissima di Rosemary Baby perché Rosemary Baby? Perché a un certo punto questa ragazza deciderà di portare in grembo uno degli ovuli di questa donna che appunto praticamente dopo un aborto è andato piuttosto male, gli è stato asportato all'utero quindi non può più letteralmente avere figli, non può neanche rimanere incinta appunto gli si passerà un periodo di nove mesi in cui lei dovrà appunto tenere questo bambino e da lì in poi la situazione andrà di male in peggio ecco mi viene a dire in questo modo Shelly secondo me ha tutti i difetti dell'esordio quindi magari una voglia di raccontare questa storia di appunto essere anche un po' estremi perché questo film letteralmente non si lascia magari da censura un altro quando deve essere veramente brutale lo è quando deve mostrare il sangue lo è e come film horror funziona veramente molto bene ha delle scene che sono funzionalmente a dio soprattutto quando magari quelle di notte il fatto che quindi non abbia un'electricità non ci sono luci, quindi lampade e altro è interessantissimo infatti la fotografia è molto impostata tipo su candele ma in genere su luce molto naturale questa cosa mi ha piaciuto tantissimo tipo c'è questa scena stupenda in cui praticamente siamo tipo sulle 6-7 di sera ovviamente c'è la nostra batonista che è in mezzo a questo lago bellissimo, questa fotografia è veramente immensa ma tornando al film in sé è un film che ha sì i suoi difetti sicuramente forse non è una storia che viene raccontata al meglio nonostante il film duri comunque poco alla fine sono tanto un'ora e 32 non lo so in alcuni punti l'ho trovato un po' fermo non lo so, sembrava che non volesse narrare chissà che introduce un po' di argomenti che se ne poteva sviluppare un po' meglio però a parte questo se me Shelley dimostra intanto una gran capacità a parte delle basi di dirigere una storia horror di parlare anche di maternità di sì, di maternità comunque di appunto di sapere anzi essere responsabili questo è un tema che ritorna soprattutto nei film che vedremo dopo che poi a livello anche di musiche non ce ne sono tantissime in più un film d'atmosfera dove appunto i suoni animali appunto piccoli mori anche della casa e tutto fanno un po' la cornice dell'insieme funzionavano molto bene gli attori e le attrici sono veramente bravissimi veramente ottimi c'è una scena in particolare che mamma mia è molto intensa è bella tossina questa è una cosa che ho notato nei film di Abbasi che a un certo punto c'è sempre una scena che non dico che è fatta apposta a farti sconvolgere è proprio una scena messa al mezzo di una narrazione che se non riesce perfettamente a capire dove il film vuole appare fin dall'inizio che se non esplode totalmente so che può sembrare una cosa negativa o altro per come Abbasi la riesce a costruire la inserisce è veramente ottimo ecco io quello che ho proprio capito di Abbasi attraverso i film che alla fine sono pochi soltanto 4 film appunto Shelley Border Holly e Spider ed Apprentice quanto i film siano studiati cioè quanto siano attenti quello che si fa in come vengono realizzati come si dirige una certa cosa come inquadra una certa cosa fa un utilizzo molto interessante dei focus dei contro focus il montaggio stesso anche come anche come come dire imposta i suoi i suoi personaggi per me è veramente interessantissimo cioè però mi inviarebbe da studiare e vedere i film a ripetizione per capire come gestisce alcune cose e tutto perché a base non se ne parla molto e non lo scoprire comunque per concludere su Shelley per me questo è un esordio che ha siti sui difetti come ogni opera prima o quasi tutte che però vive di un'ottima atmosfera di una gestione di personaggi veramente ottima una legia straordinaria scrittura eccezionale dei dialoghi che sono a dire poco stupendi e per come riesce a costruire tutto questo il micromondo questo unico cosmo anche se vogliamo questa rilettura di Rosemary Baby appunto il discorso della maternità di questo elemento soprannaturale viene gestito da Dio quindi cos'altro vi posso dire io dire di darvi un'occhiata e quindi senza perderci un'ottima chiacchiere passiamo direttamente al prossimo film il prossimo film quindi non perdiamoci un'ottima chiacchiere e passiamo sui video al prossimo passiamo già a uno dei film più famosi forse nel suo famoso se non dopo The Apprentice ovvero Border creatore di confine anche qua sempre produzione danese qua parla di questa di questa donna che ha un problema che ha questo punto di difetto genetico ha dei denti molto spergenti in generale ha il volto molto tumefatto in un certo senso ma non perché si è picchiato l'altro ma perché appunto è nata così lei si occupa principalmente di controlli alla dogana di aeroporti controlla appunto se qualcuno porta droga si porta alcolici e così via appunto un giorno mentre lei ha questo potere ecco vi spaverevo questo lei sente presente l'odore delle persone sente tipo si sentono vergogna si sentono di aver fatto qualcosa di male addirittura l'altro punto la protagonista dice sento che puzza di sesso in questo senso molto interessante quella cosa appunto dopo un personaggio che sembra aver portato con sé del materiale pedopornografico mentre appunto sta quasi finendo tutto il lavoro passa una persona che è molto simile alla nostra protagonista di cui infatti non riesce a sentire l'odore da lì in poi decide di interessarsi a questa persona e da lì in poi tutte le varie vicende che seguiranno allora Border è molto interessante tra l'altro dal maestro del thriller nordico che tra l'altro collabora con Abbasi alla sceneggiatura posso dire che già qua vediamo un gran passo in avanti rispetto a Shelley qua Border è un film veramente particolare come dice appunto il poster non avete mai visto niente di simile effettivamente è vero perché non ci sono molti film come Border forse proprio ne esisteranno solo dito nella mano Border è è un film che devo dire sinceramente all'inizio non mi stava prendendo molto anzi non mi stava proprio piacendo però diciamo che più andava avanti e più si arrivava a quel colpo di scena e più devo dire diventava interessante fino a quel finale che mamma mia per me è stupendo Border parte che è un thriller che va a parlare comunque di tematiche abbastanza pesanti questo è molto interessante a base va a parlare comunque di tematiche non leggere sicuramente non facili e non facilmente vendibili ecco qua parlai appunto di pedopornografia di vendita di bambini e così via poi mi fermo perché sennò poi ora che youtube mi va nel canale c'è soltanto l'impostazione la struttura stessa del film è molto articolare anche qua sennò tutto calcolato tutto fatto in maniera geometrica sennò la regia di abbassi qua è ovviamente ottima già in shelly dimostrava di avere una grande una grande mano qua dimostra ovviamente di essere sennò un regista forse non ancora un maestro vero e proprio o forse sì adesso adesso ci penso però sicuramente sennò è uno dei registi più importanti usciti dagli anni 80 o comunque anche dagli anni 80 avete capito per il resto adesso vi posso dire Border intanto ha dei attori che sono incredibili la protagonista è bravissima soprattutto per come l'hanno l'hanno appunto questa è una protesi cioè il benente volto dell'attrice però hanno fatto un lavoro straordinario e il lavoro che fa l'attrice con l'altro personaggio del film che appunto è quello di cui non sente l'odore fanno un lavoro straordinario per come veramente recitano insieme per come si muovono lo sguardo anche c'è questa cosa che lei muove ogni tanto il labbro mamma mia veramente incredibile poi come a base riesce veramente a gestire questa atmosfera delle foreste nordiche nordiche danesi scusate se dico minchiate però sono esperto di queste cose cioè in modo assoluto cioè riesce comunque a crearti completamente l'atmosfera riesce a crearti il climax ecco della storia per cosa vi posso dire musiche veramente ottime anche qua non sono molto presenti però quando ci sono mamma mia veramente rompono i culi poi dialoghi sempre qua dialoghi eccezionali scritti veramente proprio in maniera eccezionale a me non vengono altri termini per dire per quanto Abba si sia bravo poi cos'altro vi posso dire se è un film che parte con thriller poi diventa un fantasy poce ti lascia bocca aperta e in genere per come si va a affrontare il tema della proprio pornografia che va a parlare appunto anche dell'ingiustizia che ha subito durante la vita questa nostra pornista appunto ritenuta brutta ritenuta appunto un mostro evidente incredibile posso dire in giro che questo è un film a 24 che è tutto un simbolo e non c'è sostanza no cioè nel senso sì sicuramente è un film che è totalmente un film della 24 anche se non lo è perché comunque le strutture a livello anche di letture stesse anche di approccio a questi temati di cui ho parlato prima non si è di tutti i giorni e Sony lo fa in maniera di poco esemplare quello che posso dire è un film che posso capire non piaccia perché comunque ha una struttura narrativa proprio anche un modo di spiegarti alcune cose di non spiegartele che Sony è un'unica però Sony è molto semplice vuole dirti quella cosa te ne apre altre e riesce comunque a chiuderle perfettamente in quel finale che mamma mia è veramente assurdo o ha i limiti del rileare però che comunque funziona cioè funziona nella storia in sé nel contesto in cui è impostata e quindi non fa minimamente crollare il film quindi adesso passiamo al prossimo vorrei dire qualcosa altro di più però vi posso sicuramente dire che è border nel bene e nel male è un film assolutamente a vedere fatevi la vostra idea la cosa bella dei film di abbasi che comunque anche dopo averli finiti a vedere anche durante i lunedì ti fanno riflettere ti fanno pensare è una cosa che si dovrebbe sempre provare comunque a provare a fare quando realizzi un film il prossimo holy spider questo è stato un piccolo successo da parte di abbasi appunto a parlare questo è la storia vera di questo killer che è presente in questa città iraniana dato che appunto secondo lui per motivi religiosi che è arrivata la chiamata divina decide di uccidere una cosa come 16 donne 16 prostitute appunto in nome di Allah e appunto noi seguiamo le vicende di questa giornalista una sopratonista che è molto conosciuta a livello giornalistico nel suo paese è anche molto criticata e molto disprezzata anche perché sono uscite delle voci secondo cui lei abbia fatto delle avanze al suo capo quando in realtà è il contrario e in generale questa renderà un po' complicato le indagini cosa che viene spiegata viene esplorata molto molto bene perché in generale sono in questione i film più cattivi crudeli che abbiamo visto forse uno dei thriller a sfondo religioso anche appunto perché ho gli spider che appunto diceva che questo era il ragno religioso perché le prostitute che uccideva era come una specie di tela che tutte erano collegate in un certo modo però tutte legate da questo messaggio religioso appunto secondo queste persone che tra l'altro non dici magari un pazzo uno schizofrenico o altro no no questa era una persona che aveva combattuto in Siria era comunque un eroe di guerra amato dalla sua figlia amata dai vicini eccetera che appunto decide così di impazzire avrò perché pensa di essere una specie di cavaliere o comunque una specie di apostolo deve uccidere queste donne a parte che è esplorata in maniera incredibile non è neanche il solito magari film sui killer come essere uno zodiac e così via infatti lo stesso a base durante la conferenza stampa a Cannes nel 2022 ha detto che a lui non piacevano molto i film che parlano di killer e questo non era un film su un killer questa era più un'indagine giornalistica infatti mi sembra molto molto interessante ha ritratti forse anche un po' documentaristica cosa che ritorna anche gli apprentici di cui parleremo tra non molto sui quali realizziamo ai massimi per a basi girato in modo eccezionale gli attori straordinari tra l'altro la protagonista è la stessa di Tatami che io non ho ancora visto problemi di prodotti eccezionali nel caso posso sicurare che questa attrice anche se comunque è già sulla quarantina non so se abbia già fatto altri film prima è straordinaria forse è una delle migliori attrici iraniane siriane quello che è veramente brava anche qua torniamo scrittore eccezionale alcune scene sono orrore puro e questo mi piace molto torna sempre l'elemento del terrore della paura ecco in generale che sia qua in Holy Spider che sia in Apprentice che sia in Border e Shelly e così via viene sempre gestita in modo diverso leggermente però a basi riesce comunque a mettercelo riesce comunque a renderlo perfetto per la storia anche qua la scena spinta la scena tossina da affrontare c'è principalmente finale non ve lo dico perché è uno spoiler anche se poi questa è una storia vera quindi nel caso non ve lo dico però c'è una scena sul finale perché ha visto i film sa che è veramente pesante anche se non è la mezza intervista che vediamo prima che il film si chiuda è spaventosa è spaventosa e ci fa tanto tanto riflettere e qua ritorniamo un film che non è soltanto film che vuole sconvolgere tra l'altro è un film che ti vuole far riflettere su queste condizioni su queste persone e come il male possa comparire in varie forme in varie persone anche quelle che non ti potresti mai aspettare passiamo ora finalmente all'ultimo The Apprentice alle origini di Trump uscito da pochissimo in sala appunto il 17 ottobre io l'ho visto ieri il 19 ottobre vabbè ora sto registrando che è il 20 penso di farlo uscire se sarà stesso che appunto esplora l'ascesa di Donald Trump nei suoi appunto inizio anni 70 mentre Nixon si stava occupando del caso Watergate e i vari problemi che poi l'avrebbero seguito nel caso recuperatevi il video che ho fatto su Nixon Intrighi del Potere la monografia anzi non la monografia l'analisi della trilogia di Oliver Stone appunto scritto da Gabriel Sherman che non è uno qualunque è un giornalista che ha lavorato molto su questi casi ha fatto pure una serie che si chiama The Loudest Voice che parla del fondatore di Fox News ha tra l'altro scritto anche dei libri su Trump quindi diciamo che non è così l'ultimo arrivato l'allergia invece qua c'è Abbasi che è il primo film che non scrive lui e cosa gli posso dire Sony The Prentiss è il suo miglior film non per dire di nulla Border o Ali Spider ma questo per me è uno dei film più è un biopic che in questo senso ha una struttura tipica del biopic che però è totalmente spietato è proprio incredibile per quello che riesci a raccontarti per la facilità con cui riesci a raccontarti senza farti pensare oltre senza rendertelo un ok ho raccontato questa cosa adesso passiamo al prossimo punto no no però diventa coinvolgente è solo a vedere l'ascesa di questo giovanissimo Donald Trump passare dall'essere sì un ignorante un po' negocentrico che però sembra avere un pizzico di umanità trasformarsi diventare sempre più un diavolo sempre diventare più un mostro Sebastian Stan è veramente qua incredibile a me piace tantissimo come si è riuscito a creare il fondo pensione con i Marvel Studios ora praticamente fa quello che gli pare tra l'altro se non sbaglio ha pure citato in A Different Man presentato a Berlino quest'anno ha pure vinto come miglior attore lo affianca sempre in Apprentice Sebastian Stan e Jeremy Strong che è interessa Roy Conn che è questo avvocato che appunto fa da mentore a personaggio appunto a personaggio di Stan sono monumentali entrambi si metterebbero una candidatura all'osca però chi se ne frega queste cose per il resto dei film è veramente interessantissimo per come riesci a raccontarti questa scesa di potere di corruzione tutto fatto con una regia che Mamie mi ha attualmente ipnotizzato proprio mi ha piaciuto tantissimo come ha utilizzato questo stile molto documentaristico a base utilizzando ogni tanto questi zoom proprio da zoom sai tipo dal documentario cosa che mi ha fatto impazzire in alcune scene ha pure un effetto da VHS un po' rovinata come immagine che mamma mia veramente incredibile i dialoghi di appunto la scendiatura di Gabriel Sherman sono incredibili la cosa interessante è che questo è un film veramente crudissimo spietato ma è anche divertentissimo in alcuni punti non soltanto perché riesce a mettere ridicolo il personaggio di Donald Trump ma riesce proprio a creare delle situazioni comiche che però sappiamo che sono situazioni comiche che per realtà sono veramente tremende sono veramente pietosissime appunto l'ignoranza totale di Donald Trump appunto che non sa leggere che copia praticamente la campagna elettorale di Reagan quindi sapete il nostro discorso rendiamo l'America di nuovo grande oppure la sua totale ignoranza sull'ice oppure c'è questa bellissima scena del film in cui dice eh io sto prendendo delle vitamine fanno bene ti tengono bello attivo lo sveglio poi quando va da un dottore gli fa vedere queste medicine lui dice eh ma queste sono anfetamine poi vabbè tutto il rapporto con Ivana Trump appunto è portata da una bravissima Maria Pakalova Maria Pakalova già vista in Bodis 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 che faceva anche la doppiatrice di Cosmo in Guardian Galassia dimostra estremamente un'attrice fenomenale che se la gioca perfettamente con Sebastian anche se Jamie Strong anche se Sven non ha moltissimo spazio ho voluto vedere un po' di più però o chi se ne frega alla fine il personaggio è scritto bene ha le sue scene che funzionano poi tra l'altro la famosa scena tanto elogiata dell'abuso sessuale non è così estrema così assurda come ho sentito dire però è veramente pesantina è un po' difficile da reggere qua veramente dimostra il mostro proprio la belva che è Trump ovvero un uomo che è totalmente inaffettivo non ha un riccio di umanità è anche davanti al fratello che praticamente non ha più un lavoro è totalmente alcolizzato non ha dove vivere e stare invece di ospitarlo a casa sua gli dice tieni ti do i soldi vai in qualche albergo così a caso poi ne parliamo il giorno dopo poi vabbè sapete che fine ha fatto Fred Trump un po' mi dispiace è lì anche molto bella come scena nel momento in cui c'è la morte di Fred Trump Fred Trump cosa fa il personaggio di Trump Donald non piange comunque si trattiene perché lui deve essere questa figura autoritaria vuole essere questo grand'uomo e tutto ma questo grand'uomo che in realtà è una menzogna è una maschera perché poi vediamo che praticamente copia non riconosce il lavoro che ha fatto Roy Connell nei suoi confronti anzi più va verso la fine del film proprio vediamo come praticamente Donald proprio se ne frega di Connell di come stia morendo appunto dato che è omosessuale dato che siamo negli anni 70 era abbastanza facile prendersi lights e tutto un mostro cioè per me è assurdo che mi è dato precedente e tra l'altro è ancora più assurdo vedere come proprio il marciume proprio la sporcizia di questo personaggio si riesca a sentire dal primo all'ultimo minuto tra l'altro un film che dura due ore e sette e vi giuro queste due ore e sette sono totalmente volate un film che è fatto da Dio ha delle musiche mamma mia fa un utilizzo delle musiche dell'epoca che sono eccezionali proprio un film mi ha ricordato molto Limonov in un certo senso anche qua qualche ritorna alla New York un po' un po' beffarda un po' balandrina ecco per così dire e anche per i personaggi in sé perché alla fine se è in Limono appunto abbiamo tutto questo personaggio che è totalmente contraddittore eccetera qua abbiamo un Trump che è proprio un mostro infatti il sottotitolo di questo film è The Apprentice un American Horror Story perché questo sì è veramente un orrore un terrore cioè questo è proprio una piaga tra l'altro è molto interessante il rapporto di Donald con suo padre l'attore che lo interpreta adesso non ricordo se non sbagliate Martin Donovan non vorrei sbagliare nel caso poi correggo anything molto interessante anche là cioè neanche di fronte a suo padre neanche di fronte alla sua famiglia riesce a provare un po' di emozioni di essere più umano per una volta perché lui deve essere così questa figura imponente quasi una specie di Giulio Cesare se vogliamo talmente perfetto che non può sbagliare che vince sempre che può avere tutto e tutti ma in realtà non ha niente è totalmente privo di qualsiasi affetto vediamo anche come si comporta con la moglie prima fa tutta l'avanza eccetera poi appena si stanca proprio se ne frega ma anche con i figli stessi cioè questa scena con i figli ecco un po' mi è piaciuto che non si viste molto il rapporto con i figli che poi posso anche capire però c'è questa scena in cui c'è il figlio piccolo che piange lui prova parlando di Donald lui prova a costruire eccetera poi lo lascia alla cameriera scena che è veramente assurda il finale boh cioè dimostra proprio chi è Trump un mostro un ignorante proprio una persona meschina cioè questo è uno dei biopic più più belli dell'anno cioè in generale uno dei migliori biopic mai fatti almeno negli ultimi 10-20 anni ho visto molti per ragonarlo al caso Spotlight cioè no perché alla fine il caso Spotlight è veramente là era il compitino per me qua De Prentice è una vera e propria critica al personaggio che lo ridicolizza però non lo rende una parodia non lo prova tipo a rendere queste scene quello che fa magari una finzione o altro no proprio ti fa vedere in maniera abbastanza formale abbastanza attenta con gran capacità di scrittura di direzione degli attori chi è Trump e che cosa ha fatto negli anni 70 e tutte le varie cose i suoi palazzi la Trump Tower lui che per esempio è riuscito a vedere a evadere le tasse e così via che altro gli posso dire De Prentice per me è il miglior film di Alia Bassi è una critica è un attacco potentissimo al presidente Trump perché infatti lui ha detto però Donald Trump ha detto che questo film è un film senza classe non veritiero diciamo che mi sa che si è vergognato molto nel vedere questo film e ha fatto pure bene sinceramente quindi se adesso i poteri forti non mi bloccano se le forze speciali di Trump non mi bloccano il canale cosa ti posso dire De Prentice è il miglior film di Abbasi veramente è un film imperdibile finché lo fanno nelle vostre sale andatelo a vedere mi dispiace soprattutto poi la B in distribuzione è una casa di distribuzione che ha di film molto interessanti che però sul lato distributivo è veramente pessimo quindi se lo fanno nei vostri cinema andatelo assolutamente a vederlo non solo perché è un film di Ali Abasi potete non conoscerlo ma forse questi sono i film più importanti dell'anno se è proprio nella stagione dei premi se ne parlerà tanto quindi questo era tutto dire circa su De Prentice circa su Ali Abasi è un regista veramente importantissimo che ad ogni film riesce a dimostrare di essere capace di raccontare storie diversissime l'una dall'altra appunto passiamo da Shelly che è un horror passiamo gli Spider che è un thriller thriller religioso passiamo a Border che è un film molto iniziano in un certo senso e poi passiamo da Prentice che è questa critica al personaggio di Donald Trump un regista molto Camaleonti che questa cosa mi piace molto che ogni film lo prende come una sfida e ogni volta riesce proprio a giocare con quegli stili col montaggio come girare alcune cose di cui non si parla molto ma va assolutamente recuperato tanto che sono quattro film ma è un film più bello dell'altro quindi io non ho intanto da dirvi ma c'è una cosa vediamo un po' ok esatto quindi con il bel faccione di Ali Abasi spero che esca prossimo il suo prossimo film che tanto ho capito dovrebbe essere un adattamento di Amleto quindi io non vedo soltanto l'oro non ho idea di cosa potrebbe fare quindi io vi ringrazio come seguito per la visione noi ci vediamo in prossimi video prossime collaborazioni sul mio canale telegram sul mio account letterbox sul post della community nel caso di informare su altre cose nelle prossime settimane dovrebbe uscire un video sui talent dovrebbe uscire questa settimana ma purtroppo non sono in tempo a registrare quindi mi spiace ma vi giuro ve lo farò uscire quindi nient'altro questo video sarà lunghissimo però mi va benissimo così a base merita questo e mi ha fatto moltissimo altro quindi non ho niente oltre a dirvi noi ci vediamo in un prossimo video ciao